Certo che la vita è incredibile. Io mai e poi mai mi sarei immaginato a fare un video in cui ribadisco che il cancro non è una cosa bella, anzi è una cosa brutta. Siete su Barbaroffa, io sono Arnaldo, sono un linguista e un esperto di comunicazione e chiaramente ho voluto aprire questo video con una provocazione. Tutti sanno che il cancro non è una cosa bella, non è una cosa desiderabile e sono sicuro che questo lo sappia anche Nadia Toffa, il personaggio di cui vogliamo analizzare un'affermazione decisamente poco felice, se non altro per il fatto che sia stata fraintesa, vogliamo metterci dalla parte di Nadia Toffa, da così tante persone. È un'affermazione shock, secondo me è sciocco anche girarci troppo intorno. Ma prima analizziamo chi è Nadia Toffa. Nadia Toffa è una giornalista che è diventata famosa attraverso il suo intervento nel programma televisivo, le iene. Dissacrante, pungente, la Toffa si è distinta vincendo anche dei premi per la sua figura giornalistica, per la sua carriera di giornalista. Insomma, possiamo affermare che Nadia Toffa è una giornalista ed è anche una brava giornalista. Il punto è che una manciata di mesi fa, un anno fa all'incirca, durante un reportage, la Toffa ha avuto un malore e dopo qualche mese di attesa ha rivelato alle telecamere di tutto il mondo che il malore era dovuto a un cancro. Di qui la Toffa ha scritto un libro che è uscito poco tempo fa, il cui titolo è Fiorire d'inverno. Nel tentativo di promuovere questo suo libro la Toffa ha scritto un tweet. All'interno del tweet si diceva che il cancro era un dono. Ha utilizzato proprio la parola dono. Chiaramente c'è stato una risposta molto vehemente da parte degli utenti tweet, anche dei suoi stessi fan. Come fai a dire che è un dono? Anche perché purtroppo, purtroppo per tanti di noi il cancro è stata un'esperienza quotidiana. C'è stato qualcuno nella nostra famiglia che ha sofferto di cancro che purtroppo anche non ce l'ha fatta per via del cancro. Ci sono stati mesi brutti, giorni brutti e il solo evocare con delle parole questi sentimenti, questi pensieri, butta giù, scoraggia. Il cancro non è una cosa così di tutti i giorni, il cancro non è un dono. Questo lo sappiamo, lo sanno tutti, lo sa anche e soprattutto Nadia Toffa perché lei sta soffrendo di questo male in questo momento. E allora perché? Perché il tutto? Perché la retorica del dono? Ecco, secondo me la chiave ancora una volta è la retorica, la retorica del dono, la retorica dell'opportunità, la retorica forse che si spinge un pochino troppo della mindfulness. In un certo senso è giusto fornire delle speranze, è giusto avere un atteggiamento ottimista e positivo, ma quando si supera la linea del buon gusto probabilmente il tutto diventa grottesco, diventa quasi comico, così come lo hanno testimoniato i meme su internet. Internet poi dà il meglio o il peggio di sé nel momento in cui avviene qualcosa di grottesco a livello mediatico. E i meme su internet ce ne sono veramente tanti, basta andare su Facebook e cercare le solite pagine un pochettino edgy, un pochettino taglienti del web. Il cancro come un dono. Chiaramente non è un dono il cancro, ma devo dire la verità, Nadia Toffa è stata quella che si è beccata la botta perché è stata redarguita, ma ci sono anche altri che hanno forse spinto un pochettino troppo la retorica del cancro come un'opportunità, come una cosa bella, dei malati di cancro come dei supereroi. Qua vediamo per esempio il libro di Francesca del Rosso, Wondi, ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro. Ed è una retorica che, ancora una volta, secondo me è un po' aliena rispetto alla tradizione nostra, alla tradizione anche italiana, al modo di percepirci nostro. E appartiene un po' di più alla tradizione, alla retorica americana, quella del superhero. Come diventare un supereroe? Tu sei un supereroe nel momento in cui fai qualcosa ed effettivamente anche può essere irrispettoso. Non sto dicendo che le intenzioni delle autrici erano quelle di mancare di rispetto, ma dico solo che possono essere irrispettose nei confronti di chi non ce la fa. Cos'è il mio conoscente o il mio parente che non ha sconfitto il cancro? Non è un supereroe e tu invece sì. Tu hai più merito e chi non ce l'ha fatta ha meno merito. È questo il problema di fondo. Certamente io non ho una certa sensibilità perché non sono stato mai ammalato di cancro, Dio non voglia. Però da personaggio pubblico, quindi da Nadia Toffa io non mi aspetto cosa del genere, anche perché purtroppo ci sono stati degli scambi di tweet agghiaccianti nella misura in cui Toffa sosteneva. Vabbè tutti i cancri sono uguali, bene o male c'è un unico modo di reagire al cancro, quello è basta. Cioè questa è la mia esperienza, io sono malata quindi posso dire quello che voglio. Certo è vero che essendo malata Toffa ci può dare un punto di vista in più, ci può dare il suo punto di vista e noi possiamo esserne arricchiti, ma l'affermazione che esiste un solo tipo di cancro e un solo modo di vivere il cancro è molto pericolosa perché essendo anche questa una manifestazione umana, non sono io a dirlo, sono degli studiosi eminenti come la fondazione Veronesi per esempio, ci sono diversi modi di vivere il cancro, ci sono diversi tipi di cancro, quindi un'affermazione del genere, il cancro un dono, il cancro una cosa bella, con un po' di mindfulness si risolve tutto, non è di buon gusto, semplicemente. Io capisco le intenzioni di Toffa, cercare di spronarsi, di cercare di innescare anche un circolo virtuoso di positività, però il troppo stroppa, molto banalmente. E se si supera la linea del buon gusto si va nel grottesco, così come sono grotteschi tutti i meme che stanno popolando adesso internet, facebook, eccetera, eccetera. Se volete potete acquistare il libro di Nadia Toffa, Fiorire d'inverno, oppure il libro di Francesca Del Rosso, il link li trovate qui in descrizione, sono disponibili su Amazon e probabilmente il libro di Nadia Toffa. Io lo comprerò e voglio vedere un po' che cosa ha da dire. Abbiamo fatto il video, abbiamo criticato il tweet, adesso magari leggiamo il libro. Siete stati su Barbaruffa. Alla prossima!